Non sembra arrivare all'epilogo per uno dei vari disagi che vivono i cittadini della zona centrale di Agropoli e non solo, probabilmente il più noto tra la popolazione, ovvero i continui furti da parte di un soggetto famoso in città, con problemi di tossicodipendenza che quotidianamente ruba frutti dagli alberi di abitazioni private che si trovano nei pressi delle vie cittadine e biciclette, ma anche altri oggetti. Il fenomeno, che ormai va avanti da anni, è diventato insostenibile per chi sempre più spesso subisce questo tipo di azioni, che non contano molto finanziariamente, ma che arrecano sicuramente fastidio a chi le subisce. Sono stati fatti diversi provvedimenti nei confronti di quest'uomo, ma non bastano a risolvere la situazione e così le gesta di questo cittadino continuano indisturbate. Nella giornata di ieri, infatti, è stato visto più volte in via Gentile e in altre vie secondarie del centro agropolese, mentre rubava frutti dagli alberi delle abitazioni più accessibili ed in serata è stato avvistato nuovamente con una delle tante biciclette che ha sottratto a qualche cittadino per poi rivenderla. La Compagnia dei Carabinieri di Agropoli riguardo questa vicenda invita i cittadini a denunciare gli accadimenti, dato che solo denunciando l'uomo possono essere presi seri provvedimenti nei suoi confronti e fermare definitivamente questa situazione ormai insostenibile.